Temo, avrete qualche delusione, perché specialmente rispetto al fascino delle cose che ci ha detto chi ci ha preceduto, noi da quello che è l'empirio filosofico che ci affascina a tutti, l'idem una ellipse, l'essere non indifferente, l'ontologia della fragilità, forse anche un approfondimento psichico tra io e superio, da quel piano lì scendiamo a un piano di una banalità assoluta e quindi non mi se ne voglia, non sarà diciamo, spero colpa mia, è un po' colpa di quel terreno sul quale ci dobbiamo immergere, che è un terreno fatto di soggetti, individui in generale dotati di livelli culturali medi se non bassi, se non molto bassi, che pongono prima di tutto lo scienziato, poi naturalmente al medico e poi alla struttura paese, al magistrato, alle sentenze, a quello che il medico legale sommessamente deve consigliare ai sanitari e al servizio di fare quando si pone il problema di un soggetto che vuole cambiare sesso, detto in termini diciamo molto brutali come fanno i medici legali. Anche qui purtroppo volevo riprendere qualcuna delle cose che Vanni Fraiesi aveva detto così bene, ma finirei con l'uscire dal seminato perché disgraziatamente mi devo riportare a quelle quattro cose, sono proprio quattro cose, che riguardano il tema che abbiamo di fronte dal punto di vista didattico su quello che dobbiamo dire a giovani e a colleghi. Primo. Secondo, su quello che dobbiamo dire all'opinione pubblica. Terzo, su quali sono i punti dolenti su quali vigilare su questo sistema, perché ormai sta diventando un sistema nel momento nel quale il Servizio Sanitario Nazionale ne ha accettato di prendersi in carico le questioni. Velocissimamente la Corte Costituzionale già nel 1985 ha chiarito in maniera chiara che vi è il riconoscimento di un diritto in un soggetto che giuridicamente non vuole più appartenere all'altro sesso, perché vive come una liberazione il potersi liberare di organi genitali che lo fanno sentire in una collocazione impropria e che gli determina sofferenza. Punto. Lascio tutto il campo a tutte le considerazioni che così bene ha fatto Vanni Fraiese e ha fatto chi mi ha preceduto e a chiunque vorrà cimentarsi su questo terreno. Per noi purtroppo si rimane alla banità del capire se esiste o no, quella è la prima domanda, una sindrome transessuale. Se essa c'è e può essere diagnosticata, e certamente lo può essere a certe condizioni, inizia quel percorso, dirò poi quali sono alcuni piccoli punti di crisi, in cui un Tribunale può, accertato con perizia medico-legale o con certificazione di struttura pubblica, dare il via all'intervento chirurgico. Su quello io voglio perdere poi due parole e un po' di tempo. Perché fatta che sia l'autorizzazione del Tribunale o con perizia di CTU privata o con certificazione di ente pubblico e proceduto alle indagini ormonali e all'autorizzazione al trattamento chirurgico, viene l'intervento e poi le famose rettifiche anagrafiche. Allora, 3-4 punti un po' davvero delicati. Chi fa e come fa e come viene fatta la perizia psichiatrica? Questo è uno dei primi punti fondamentali. Ho detto poc'anzi che non è facile confrontarsi culturalmente con soggetti che hanno problemi e limiti molto forti. È necessario che dall'altra parte vi siano colleghi che non si limitano alla semplice e veloce certificazione. Sì, questo me lo dice. Ci sono le condizioni, procediamo in questo modo. La prima questione, ve la dico proprio in maniera molto banale, è che sovente esistono figli di questi soggetti. Ci tornerò successivamente perché il nostro ordinamento non consente a un soggetto di essere figlio di due persone dello stesso sesso. Sicché la soluzione giuridica che è stata data, però semplicemente giurisprudenziale, è che ai figli viene mantenuta il patronimico, il nome dei genitori, così come erano con il sesso precedente. Ma se dopo l'intervento il genitore ha assunto un altro sesso, egli ha diritto ad avere figli in altra condizione. Capite bene che questa situazione, se non è sostenuta da un percorso psicologico e psichiatrico in fase anche di accertamento preventivo, che tenga conto non solo del bisogno e dell'esigenza del singolo soggetto che vuole liberarsi di quella parte di sé che ontologicamente poi tutti possiamo assumere come certamente un suo desiderio che va secondato dalla società, vi sono però diritti e doveri anche nei confronti di altri soggetti, in particolare in questo caso ex familiari, figli e quant'altro. È un primo problema che pone una questione di fondo, qual è la qualità dell'accertamento psichiatrico e della perizia psichiatrica che viene svolta in casi sì fatti, non nella struttura pubblica con tentativi di cui parlerò poi molto rapidamente dopo, di guardare ad altri aspetti che non quelli del rispetto della persona. Ci sono problemi anche di privacy, che spesso il medico legale è chiamato a derivare, per esempio la procedura di legge non consente a un terzo la possibilità di conoscere, nemmeno a seguito di un'autorizzazione del giudice, i dati anagrafici di un soggetto a cui sia stata rettificata l'attribuzione di sesso, perché c'è un rispetto dei principi di uguaglianza, di valore della persona umana e questa cosa capita bene che detta così teoricamente è vera, poi in pratica siccome un soggetto ha avuto certificazioni, un vissuto, un passato, dei rapporti, diventa qualcosa di molto evanescente che si presta naturalmente a una serie di circostanze che poi devono essere accertate. La questione invece immanente, secondo me quella forse sostanziale, quella dell'intervento chirurgico, io la dico con molta serenità senza voler accusare nessuno, proprio perché diceva chi mi ha preceduto, e ciascuno di noi deve essere consapevole, che c'è l'impossibilità di definire un'etica precisa. Siamo su un terreno dove dal punto di vista etico ciascuno di noi la può pensare come crede, ciascuno di noi può esprimere le sue pulsioni, opinioni, il suo vissuto, i suoi problemi e forse anche le sue nevrosi. Ma un dato è certo, si tratta di una realtà con la quale nel momento nel quale giuridicamente circa 25 anni fa la Corte Costituzionale ha stabilito esservi il diritto dei soggetti, il diritto inalienabile a certe condizioni a cambiare sesso, si è innescato un meccanismo come sempre accade nelle società industriali avanzate di natura economico-finanziaria, sul quale se un tempo avevi i viaggi della speranza, il Marocco e quant'altro, ora abbiamo divisioni ospedaliere, reparti nei quali si è iniziato un percorso nel quale si procede. A mio avviso con tutte le caratteristiche, cerco di usare le parole più tenue al riguardo, tutte le caratteristiche di quella ricerca del profitto che spesso è ancora presente pure nel pubblico, non solo nel privato, tale per cui la procedura ha un qualche tipo di limite per cui si fa presto a superarla e si procede molto rapidamente. E qui però sorge una questione che è la questione di fondo un po' dei problemi sanitari che poi tutto torna alla preparazione generale dei nostri sanitari, nostra perché anche io faccio parte di quella generazione preparata in un certo modo, che è quella della valutazione dei consensi e di un passaggio che dal punto di vista medico-legale è fondamentale. Voi sapete che nell'atto medico dal punto di vista, per fortuna almeno a tutto oggi, dal punto di vista della responsabilità del sanitario e della struttura, non vi è obbligo di risultato, mi fermo qua perché sennò poi spazio troppo, vi è solo obbligo di mezzi, non siamo, viva Dio, tenuti nell'intervento sanitario a ottenere il risultato. Si parte dal presupporto che la terapia medica e la terapia chirurgica può non avere l'effetto del miglioramento, non c'è sanzione per questo, ci sono però due condizioni nelle quali vi è obbligo di risultato per i laureati in medicina, le protesi dentarie e la medicina estetica, la chirurgia plastica in cui l'impegno a ottenere il risultato che io ti chiedo di ottenere nella riduzione delle dimensioni del mio naso piuttosto che qualcos'altro, fa parte deontologicamente degli obblighi del sanitario. Attenzione perché vi sono sentenze, nel caso del cambiamento di sesso vi è proprio una situazione borderline tra l'obbligo di risultato e l'obbligo di mezzi, perché ovviamente lo capite bene, l'obbligo di risultato è strettamente connesso al fatto che il soggetto desidera definitivamente liberarsi da una condizione di presenza di un organo sgradito, ma non tutto è così semplice, perché i casi che vengono poi alla nostra osservazione sono quelli nei quali si dice ma io voglio procedere contro il medico e contro la struttura perché l'intervento non mi ha soddisfatto, allora torno alla ragione per la quale poi psicologicamente diventa determinante e fondamentale la raccolta anamnestica e l'esame psichiatrico di questi soggetti, perché rischi di trovarti nella condizione di soggetti che hanno chiesto di fare un intervento, non avendo chiara fino in fondo qual era la natura del loro problema e non era l'organo, ma era di tipo diverso e poi invocano in qualche modo l'errore medico. Qui però si inserisce, l'ho detto poco fa, la questione nodale, che è quella della capacità dei nostri sanitari, della struttura sanitaria, ma specialmente dei nostri sanitari, di relazionarsi con il paziente. Questo è un problema che vale per tutto, non vale solo.